dimmi la verità guardandomi negli occhi lo stai facendo il backup ma come no non lo fai perché le utility di backup costano troppo o sono eccessivamente limitate beh allora ho veramente una buona notizia per te se ti dicessi che esiste una suite completissima che consente di fare backup immagini disco clonazioni e tutto quello che ti viene in mente in maniera gratuita mi diresti che è troppo bello e io invece dico di no anzi voglio dimostrartelo e quindi se ti senti pronto iniziamo ed eccoci pronti a cominciare ma non possiamo farlo se prima non omaggiamo loro ma come chi le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ok siamo pronti finalmente per andare a prendere il nostro software e per prenderlo come al solito apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it clicchiamo per aprire il nostro sito è una volta che si sarà aperta la pagina ci potremo portare qui in alto su questa sezione qui quella che si chiama downloads a questo punto scendiamo un pochino più in basso nella nostra pagina fino ad individuare questo download qui quello che si chiama hasleo backup suite si tratta di una suite non recentissima ma molto completa di cui in passato avevo presentato solo una piccola porzione ovvero quella relativa alla clonazione dei dischi moltissimi utenti in community mi hanno tirato le orecchie dicendomi che valeva sicuramente la pena mostrare ed inserire nei download anche il pacchetto completo soprattutto dato che come ho già anticipato è completamente gratuito non contiene pubblicità e può essere usato tranquillamente a tempo illimitato nel caso in cui tuttavia non dovessi riuscire a trovare qui il nostro download niente paura ti basterà come sempre cliccare qui in alto sulla lente di ingrandimento e nella barra di ricerca andare a digitare il nome del programma che stai cercando in questo caso hasleo backup suite ma vale per qualsiasi altro programma abbia presentato anche nei video precedenti per far prima io faccio clic sul pulsante file download e come vedi in pochi secondi il download verrà completato anche sul tuo pc si tratta di un download molto piccolo sono circa una trentina di mega per la precisione 32 e 53 e come vedi vengono scaricati in tempo velocissimo a questo punto clicchiamo su questa iconcina qui per aprire la cartella dei download in cui abbiamo scaricato il file e chiudiamo la finestra del browser retrostante che non ci serve più per installare questa suite dovremo fare doppio clic sul file compresso che abbiamo appena scaricato e successivamente nuovamente un doppio clic sull'unico file eseguibile che si trova al suo interno fatto questo dovremo cliccare sul pulsante esegui per confermare di voler installare questo software ed a consentire con sì affinché vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo ora potremo scegliere la lingua che preferiamo io lascio l'italiano di default naturalmente e cliccare sul pulsante ok vedrai che si aprirà un'ulteriore finestra che ci chiede di accettare i termini di licenza del software e fatto questo potremo cliccare sul pulsante avanti lasciamo tutto quanto come si trova nella finestra successiva e clicchiamo ancora su avanti e potremo scegliere per nostra comodità di lasciare spuntata questa casella in modo da creare un'icona sul desktop clicchiamo ancora su avanti e vediamo che partirà l'installazione di hasleo backup ecco fatto l'installazione è terminata sul nostro desktop è stata creata un'icona da cui in futuro potremo lanciare tranquillamente il nostro programma che tuttavia verrà avviato automaticamente se avremo lasciato spuntata questa casellina anche nel momento in cui cliccheremo sul pulsante fine possiamo chiudere la finestra del browser che si apre e come vedi ci verrà posta subito un importantissima domanda prima di rispondere tuttavia e prima di andare a vedere questo programma lasciami parlare un attimo dello sponsor di oggi nella persona di UDU ebbene sì abbiamo lo sponsor come gli youtuber veri ma non solo ha qualcosa di molto interessante e soprattutto gratuito anche per te UDU è un vero e proprio tutto fare per la gestione aziendale che ti permette di automatizzare e semplificare moltissimi aspetti del tuo lavoro che cosa puoi fare con UDU beh dai un'occhiata qui hai a disposizione letteralmente un'app per ogni tua esigenza puoi creare un sito web completo e commerce e learning blog forum e molto altro inoltre puoi gestire vendite finanze magazzino risorse umane marketing servizi e produttività tutto in un'unica piattaforma insomma un vero alleato per semplificare e ottimizzare la tua attività ma perché dovresti utilizzare UDU beh innanzitutto tutte queste app che ti ho appena mostrato sono interconnesse tra loro quindi immagina ad esempio di gestire un negozio online con UDU un cliente effettua un ordine sul tuo sito e grazie all'integrazione fra le applicazioni l'e-commerce fa in modo che l'ordine venga registrato automaticamente e il cliente riceve immediatamente una conferma via email il magazzino verifica che i prodotti siano disponibili e prepara la lista di prelievo per la spedizione a questo punto la fatturazione gestisce la fattura che viene generata automaticamente e inviata al cliente senza alcun bisogno di interventi manuali e tutto questo avviene senza che tu debba saltare da un sistema all'altro evitando errori risparmiando tempo e offrendo un'esperienza più professionale ai tuoi clienti ma non basta UDU è personalizzabile e conveniente cresce con te in base alle tue esigenze offrendo un pacchetto completo e chiavi in mano in un unico abbonamento super accessibile a partire da 11 euro e 90 al mese è possibile provare la piattaforma per 15 giorni senza alcun costo in modo da poter valutare la sua efficacia ma se vuoi puoi anche utilizzare un'applicazione di UDU gratuitamente per tutta la vita con hosting e supporto illimitato insomma in poche parole UDU è lo strumento ideale per semplificarti la vita e far girare al meglio la tua attività beh mica male UDU eh ma torniamo a noi perché ci siamo lasciati su una importantissima richiesta di questo programma ovvero quella di scegliere una cartella predefinita per salvare i file immagine dei nostri backup e qui attenzione perché io voglio fare una precisazione conviene sempre utilizzare un harddisk esterno non importa quale harddisk tu utilizzi l'importante che abbia una dimensione sufficiente per quello che ci devi fare e quindi generalmente suggerisco un harddisk di dimensioni uguali o superiori a quelle del tuo disco rigido del computer se non sai che harddisk scegliere come al solito in basso nella descrizione troverai alcuni modelli consigliati ma tu scegli pure quello che preferisci in base alle tue esigenze e torniamo a noi a questo punto clicchiamo su sì per andare a predefinire una cartella per il nostro lavoro e fatto questo potremo cliccare su questo pulsantino qui azzurro per andare a sfogliare il nostro computer e scegliere un'unità esterna proprio come ho fatto io scegliendo il volume e naturalmente invece il volume c è quello che contiene i nostri file di sistema fatto questo clicchiamo sul pulsante selezione cartella e clicchiamo pure su ok ed ora ci troveremo di fronte a questa finestra andiamo a vedere bene che cosa possiamo fare la prima scelta è tra creare un nuovo backup oppure scegliere un'immagine da ripristinare in questo caso naturalmente sceglieremo la voce nuovo backup per andare a creare il nostro primo backup e qui ci troveremo di fronte a tre scelte la prima è quella di effettuare un backup di sistema e attenzione a me gli occhi questa è una cosa che si fa in un momento molto particolare ovvero quando hai appena formattato il tuo computer installato il sistema operativo installato tutti quanti gli aggiornamenti tutti quanti i driver e tutti quanti i programmi che ti servono non è un backup dei dati ma semplicemente di una situazione del tuo sistema in modo tale da poterla ripristinare quando deciderai di formattare nuovamente risparmiando davvero un sacco di tempo la seconda opzione è quella di un backup disco oppure di una partizione che ti consentirà come agevole intuire di salvare ed eventualmente ripristinare tutto il contenuto di un disco oppure di una singola partizione di un disco la terza opzione quella più interessante per oggi è quella del backup dei file che ci consente di fare un backup di file e di cartelle di nostra scelta che confluiranno tutti quanti in un unico file immagine in modo da non perdere mai i nostri dati e poterli ripristinare alla bisogna per procedere con il backup dei file dovremo semplicemente fare clic sul pulsante backup file in cui potremo andare a scegliere tutti quanti i file e le cartelle che vorremmo backupare ad esempio potremo decidere di backupare tutti quanti i documenti le immagini la musica e i video spuntando semplicemente questa casella se tuttavia volessimo cercare anche altre cartelle specifiche nel nostro computer potremo selezionarle tranquillamente qui all'interno del disco c una volta effettuata la nostra selezione cliccheremo sul pulsante avanti e partirà il nostro backup che durerà semplicemente qualche minuto ok il backup è terminato anche perché in realtà su questa macchina virtuale quelle cartelle sono praticamente vuote e potremo cliccare sul pulsante completato a questo punto tornando nella home vedremo che sarà presente un file di backup e questo file di backup ci consentirà di compiere ulteriori azioni come ad esempio effettuare degli stessi file un nuovo backup completo incrementale o differenziale oppure procedere con il ripristino di tutti quanti i file backupati nel caso in cui ce ne fossimo perso qualcuno nel caso in cui volessimo fare un backup potremo cliccare sulla relativa voce in questo caso io consiglio sempre di scegliere la voce incrementale che va ad aggiungere solo ed esclusivamente eventuali altri file che si fossero appunto aggiunti nel frattempo clicchiamo nuovamente su completato e nel caso in cui invece volessimo ripristinarlo cliccheremo sulla voce ripristino andremo a selezionare tutto quello che vogliamo andare a ripristinare e quindi in questo caso andremo a ripristinare nella cartella c user sfito la cartella documenti immagini musica e video e a questo punto andremo a cliccare sul pulsante ripristina nel percorso originale in modo da far tornare questi file che esattamente dove erano clicchiamo sul pulsante avanti attendiamo ancora qualche secondo che venga ultimato il nostro ripristino e al termine clicchiamo sul pulsante completato tutto qui ma non bisogna commettere l'errore di pensare che le meraviglie di questa suite si concludano qui se infatti andiamo a cliccare sull'ultima icona in basso quella che ha la forma di una cartellina con un ingranaggio al suo interno troviamo un'altra serie di funzionalità interessantissime te ne elenco alcune c'è la possibilità di creare un disco di emergenza da utilizzare nel caso in cui il nostro computer non si avvi la possibilità di montare o smontare l'immagine di un disco creata sempre con as leo backup suite come se fosse veramente un'unità virtuale oppure ancora di andare ad effettuare una pulizia di un'unità e quindi una cancellazione profonda di tutti i suoi dati all'interno nel momento in cui per esempio dobbiamo vendere il nostro computer e non vogliamo che nessuno abbia la possibilità di recuperare niente oppure ancora di andare a scaricare ulteriori utilità gratuite che consentono ad esempio di creare un windows portable oppure di recuperare dei dati perduti e tutto questo gratuitamente devo ammettere di non aver mai provato approfonditamente la suite di asleo e di esserne rimasto particolarmente colpito e quindi ringrazio tutti i membri della community che nel tempo mi hanno suggerito di testarla e di fare questo video ringrazio anche udu che lo ha sponsorizzato e ti ricordo che lascio il suo link qui in basso nella descrizione qualora tu volessi provare i suoi interessanti prodotti ma detto questo dobbiamo passare assolutamente ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima